Matteo Battisti Ottimo Sì, soprattutto mi è piaciuta questa difesa Può correre Vede ottimamente il taglio di Massimiliano Ferraro L'assist di Papa per Ferraro Ottima azione, ottima visione di gioco di Francesco Papa Trapani non sa bene che servire, si arriva lontano da canestro David Berkic Due secondi David Berkic 15 a 26 Si porta a casa il canestro David Berkic Canestro di rabbia Mamma mia Ancora Trapani Berkic dall'arco non la spara Decide che si può ragionare Grande Mamma mia Mamma mia che cane altro Polvio Mamma mia Mamma mia Con la palla che viene gestita ora da Marcello Crusca Che sbaglia la recuperazione di Occhi Il contropede per Antonio De Fabritis Che vuole arrivare fino in fondo Antonio Meno 6 De Fabritis Per Papa Quindi Antonio De Fabritis Lo spazio è finita la tripla Vuole prendersi l'area Antonio De Fabritis Il movimento di Ferraro ma si va in punta da Raschi L'assist del professore Per Francesco Papa Ferma la palla Raschi sotto Non ci sono i 3 secondi Secondo l'arbitro Ma forse Berkic David Di forza Perchino La sinistra per Matteo Battisti Quindi da sinistra per Raschi C'è lo spazio Raschi può prendersi l'avvicinamento Andrea Raschi Ascandiano Trapani per David Berkic Il gioco spalle a canestro di David Berkic Contro Germani Ce n'è andato Berkic Continuità Antonio De Fabritis Antonio De Fabritis Non c'è fallo Tutto Ah Viene fischiato Un fallo sotto canestro No no Viene fermato Viene fischiata la rimessa semplice L'ha rimessa solamente Pardon Fulvio Berkic Gli fa spazio Papa Fino in fondo Antonio De Fabritis Sbaglia Ma c'è il tap in Di Papa Francesco 6 9 7 2 Meno 3 32 secondi al termine Il blocco dei due loghi Vai dentro Spazio Antonio De Fabritis Sbaglia E un cello Il tap in di Papa Di secondi al termine 75 72 Meno 3 Per Cesena Il fallo intelligente Per fermare La sgroppata Di Antonio De Fabritis Realizza il primo De Fabritis Il canastro Del meno 2 Berkic lo prende Il ribasso È di David Berkic E non arriva ancora Ma lì c'è il fuori E c'è il fallo Di Francesco Papa Non è arrivato Il tap in di David Berkic Ma come ti fa lo Papa? Canelo Canelo La sirena Sulle tiro Di Tommaso Gatto Applausi Per Scandiano Certamente Un'ottima prestazione Un'ottima prestazione Di squadra Coach Di Lorenzo In mezzo al capo Ha ragione Ha ragione Agli arbitri Arbitraggio Non chiarissimo Ma ci sta Per carità Ci può stare E noi Noi vi auguriamo Buon Natale E ci risentiremo Il 29 dicembre Per la preziosissima Trasventa importantissima In quel di Ozzano Buonasera a tutti Buonasera 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 Buonasera